Marco Berrotta, il difensore del Pescara, questa sera in una gara che doveva regalare la salvezza. Bastava un pareggio, è arrivato il pareggio con poca sofferenza. Nel finale avete rischiato qualcosa, ma per il resto il Pescara ha giocato una grande gara questa sera. Ma sapevamo che era comunque una partita difficile perché il Venezia è una grande squadra. Noi abbiamo preparato una grande partita perché questa settimana era impossibile sbagliare. Volevamo la salvezza in tutti i costi e ci siamo riusciti. Ci votiamo questo momento perché ce lo meritiamo dopo tutti i sacrifici e i momenti brutti che abbiamo passato. Il lato positivo di questa stagione, che non è andata come volevate all'inizio, è che comunque nel finale, lottando così, avete riconquistato il feeling con la piazza. Sicuramente nei momenti di difficoltà, che ce ne sono stati molti in quest'anno, abbiamo dimostrato comunque di essere un gruppo solido. Io credo che dobbiamo ripartire da qui perché diciamo che comunque ci sono delle annate che non girano. Quest'anno credo non sia girata, però sicuramente vogliamo preparare il prossimo campionato per non salvarci. Facile dire adesso, Marco, che probabilmente l'arrivo di Pilon sulla panchina del Pescara è servito per quello scatto che mancava a questa squadra, anche quello scatto di orgoglio per riuscire a conquistare questa salvezza. Diciamo che il mister ci ha dato una grossa scossa perché a livello mentale eravamo arrivati in un punto in cui eravamo molto in difficoltà. Lo ringrazio molto perché comunque ci ha portato la salvezza, è stato un gran merito, è stato anche suo. Marco, parliamo anche un po' della tua stagione dal punto di vista personale perché all'inizio, al ritiro di Rivi Sondoli, non eri forse nei piani come giocatore titolare, alla fine però con Zeman prima, con Pilon adesso, ti sei ritagliato un posto, eri praticamente quasi intoccabile lì dietro. Te lo aspettavi? Nella mia vita non mi è stato mai regalato nulla. So che ogni giorno devo guadagnarmi tra i grueletti e il pane, quindi io ce l'ho messo a tutta. Ringrazio il mister che mi ha dato la fiducia. Sono soddisfatto della mia stagione perché comunque ho giocato quasi sempre. Comunque a fianco avevo molti difensori molto forti, quindi mi hanno dato tanto, mi hanno dato molte dritte, gente esperta come Campagnaro, quindi io posso solo che ringraziarli di essere migliorato, però c'è ancora molto a migliorare. Noi non vogliamo arrivare alla salvezza dell'ultima giornata di nuovo, noi vogliamo fare un campionato all'altezza del Pescara, diciamo. Una stagione con tante avversità, tanti problemi, una stagione che si è chiusa bene. Io vorrei tornare indietro a qualche settimana fa, al 91esimo della gara persa in casa con il Parma, quando proprio tu in Mixed Zone ad una precisa domanda risposi dobbiamo, basta con le parole, dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo, dobbiamo far parlare i fatti. È stato così? Sicuramente è stato così, ci dispiace aver fallito la prima occasione con l'Ascoli perché ci tenavamo molto davanti al nostro pubblico, comunque era un derby e ci tenavamo molto a far bene. Ci dispiace che abbiamo perso, però comunque ci è girata male e abbiamo giocato quasi tutta la partita in dieci. Però quando siamo arrivati in un momento così di difficoltà all'ultima partita, all'ultimo secondo, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Vince ha fatto una gran parata, se no a quest'ora stiamo parlando di altro, però abbiamo dimostrato tutti insieme che ognuno ha dato un qualcosina per far sì che questa squadra sia salvata. Promettimi che ora mi rispondi, che non mi rispondi, non lo so, vedremo, poi vediamo. Futuro, perché da adesso è finita la stagione, si parla di futuro. Marco Perrotta cosa vuole fare da grande a me, insomma già sei grandicello però? Ma io sicuramente ho altri anni di contratto qui e sono molto felice di giocare per la squadra nella mia città. è una decisione che non spetta a me, io rimarrei molto volentieri perché mi sono trovato benissimo sia con i compagni che con la società, con tutto, ma questo già si sapeva, quindi non serve la mia risposta. Perfetto, grazie.